adesso scaricheremo flamingo evolution, ho visto questo gioco abbastanza carino, oggi lo proveremo non sapevi che è bolloso, se no non lo sapevo ho letto la notifica di un parking angela scaricando qua vedete alcuni giochi li ho messi su sd non me lo do per scaricare altri giochi poi c'ho pokemon go con gioci per un video adesso non funziona però evolution games la prima volta che lo gioco questo eh la prima volta che lo gioco i love this game in quel caso gli darò un voto roggio per ora mi sembra molto carino flamingo mi sembra non mi sembra non mi sembra non mi sembra ma non mi sembra ah se mettiamo insieme due fenicotteri mettiamo insieme più fenicotteri che cos'è questo uova comprimono un altro ora andiamo a prendere l'uovo ah! c'è un sacco di mondo, mondo 2, mondo 3, mondo 3, mondo ok ci sarà molto da fare quando potrò applicare i dargli un po' diamanti in costo? raga shimmons grazie la flamingo per dire ah potremmo visto che no ok un uova un allevamento ok possiamo fare una cosa ok è uscita una scimmia e due scimmie cose che entrano boh adesso troveremo adesso adesso andiamo a trovare come si voleranno qui adesso andiamo a trovare il gioco a far diventare sempre più evoluti e di volte penso che un po' di stress pigibano pigibano adesso facciamo molti se mi c'è un guacodrillo adesso ma di finire una madonna ok due sono diventati così facciamo proprio troppo leone ci devo taglio di nuovo aspettate un po' sono diventati tutti così la mia scena leone diventate altri uomini leone 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 il prossimo sarà qualcosa di piccolo abbiamo due elefanti che diventano un plankton dove sono? ah si può andare sotto il fiume questo ah si si lo posso comprare ecco questo 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 ok vabbè ragazzi spero questo video vi è piaciuto iscrivetevi mettetevi un like vediamo il prossimo video non 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 Oh man, questo è flammeggiato. Questo è salvo.